Adesso arriva un punto da diamantia Non si dice così però Va bene Dietro 12 c'è quella persona Con dei sentimenti Stai per caso mollando? Eh? Pappa molla? Now you have to rise and shine baby Devo dimostrarlo Devo dimostrare di essere il più forte Se batto lui nessuno potrà più dirmi Ci siamo Il pollo è finito nella tana La... La volve è finita nella trappola Non mi ricordo come si dice sinceramente Scegli la mappa Scegli la te? Sono io il diamante Per scaldare un attimo gli anime Dai! Ah devo farlo io? Non so come si fa Cosa devo fare? Come? Perchè sto ridendo brutto Schifoso Laido Mamma mia ti distruggo Ti distruggo Ti metto qui boom Qui Dove finisce il bicipito Stuck Facciamo che non ci sono regole Perché contro gente come te Non si possono avere regole Ci sto bro Non so dove andare No! Non ho scelto l'operatore Ma quel cazzo metti il cavo elettrico Uno metti il cavo elettrico Dai dai che ce la fai Dai che ce la fai Turi! Muovi il drone proprio da diamante Vai 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 Dai dai fermo a quel drone Mi sta girando la testa Adesso ti esco Ma che stai Ma che stai Nelle mani? Il gognometro Sono stato così lento Sparati? Eh no sono stato più veloce Fra Questa lenta Ti sento un po' Un po' spento ti sento Cosa si succede? Sto meditando Ho messo pure il ciondolino oro Quello che ti meriti te Il grado che ti meriti te Offende Affiabilandia non entra Non gli fa fare neanche le giostre Offende Ah cosa Ah cosa Non fa finta di aver già capito tutto Hai capito dove hai sponato Oh che madonna Ho visto la finestrina rotta Ho avuto una paura madonna Mi hai fatto cagare in mano Ho detto madonna che minchia Debate di Turi Ti Il Ho hopping Sparare Di Per Partello pneumatico! Eh, un po' lentino, Boh, Max! L'ho visto un po' lentino! Che cosa è successo? Eh, lo sto invecchiando, ragazzi. Madonna, beh, ma mi tremano le mani, mi sembra di avere il Parkinson. Non ci sono regole. Ma che... Oh, ma sei di là? Fra, io ce le cuffie al contrario. Porco, ma com'è il cuffie al contrario? Fra! Oddio! No, non so, Ash! No, ho sputato sullo schermo, Fra! No! Orca, io, io, beh, me c'ho le coltellate, mi partono le coltellate. Signori, Turi mi stava di nuovo per uccidere. Mi so close! Eh, vabbè! Dietro la colonnina stavi, principessa Sissi. Vediamo dove è andato sto scarafaggio. Sto lombricone. Stai attento, Boom Max, che tu hai come l'uomo nero. Quando uno te lo aspetti, arriva da dietro. Guarda dove è sponato. Un round for the win. Solo una cosa mi potrò salvare. E già il drone è andato, Bel. Neanche te ne sei accorto. Un piccolo Boom Max. Ora ti distruggo, comunque. Ti ho guardato la mia testa, Bel. Piccolo. Piccolo Matthew. Ma Matthew o Ethan? Tutto e due. Ti chiami Matteo o Ethan? Sì. Con uno che si chiama Matteo o Ethan non posso perdere. Mai nella vita. Vabbè, è quello che succederà comunque. Maiala. Ah, stunda questa. Ma tu devi piazzare, manca un 20 secondi. Oh, l'hai sentita questa? Cipoli un po'. Oh, lì dai bretti Boom Max. La riguardo deve dare un suo effetto. Aspetta che la vado a prendere anch'io a sto punto. Ah, ma io non ho alcolici in casa. Vabbè, tanto sto round ti distruggo. Sto pure barricando. Barrica pure. Ah, barrica, barrica. Vai, stavolta vediamo se... Oh, la bestia. One shot, baby. Niente, sei dopato. Dove sei? Turi? 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 Cazzo sei, FK? No, la minchia sei. Ma! Ma io per un attimo pensavo fosse FK. Ho detto, ma vabbè, sarà successo qualcosa. Tutte scuse, signor Boom Max. Stavo venendo il tuo soccorso. Sarà felice la mia morosa quando arrivo già ubriaco, dai. Almeno tu ce n'hai uno. Cos'è sta roba? Cos'è? Perché io ho fatto sta roba? Dai non ti preoccupare, che io ho le mie tecniche. Vabbè, l'ho gelosculato di merda. Cosa? Cosa? Cosa sentono le mie orecchie? C'è del non detto nell'aria? C'è della gelosia? Fa, sto rosicando. Cos'è questa tensione che si è creata nell'aria, signor Boom Max? È per caso perché un Diamond Boosted la sta aprendo come Lisa N e glielo sta leggermente appoggiando dentro, signor Boom Max. Ma ricordo, signor Turi, che non è ancora finita la partita. Il signor Turi non sbaglia un match point da 2000, bello. Lo sai, Boom Max? Non è vero, ti sei buttato di sotto. Hai trovato una bomba. Dai, che fame, che fame. Sarebbe stata più difficile una caccia a terroristi. Tutti scrivono Diamante Carriato. Ma questi sono dei ignoranti. Perché io non sono carriato. E poi se proprio vogliamo essere sinceri è bustato. Vuoi offendermi? Offendimi con i termini giusti, ignorante. Capra! Diamo a Cesare qualche di Cesare. A pare che uno mi ha scritto, io non capisco come fai a essere Diamante. Io ho detto legge su sto gioco, sono Oro 2. Figlio mio. Cosa? Se te sei... Cosa? Se tu detti legge su questo gioco e sei Oro 2, io capisco tutto. Ma secondo me, te, un problema, potresti averlo. No, mia madre, cosa vuole? Ui, che fai? Mamma, sto registrando un video, ti chiamo dopo. Saluta Boom Max. Ciao, ciao Boom Max.